Peppe Esposito uno dei dirigenti di Latrine ma c'è grande amarezza per questo pareggio soprattutto per come è maturato dopo un primo tempo in cui si è restati perfetti poi che cosa è successo? Ci siamo smarriti anche per merito del Pompigliano che ha fatto un bellissimo secondo tempo però io do le colpe proprio effettivamente per un po' al mister e un po' a tutta la squadra in generale un calo che non so da cosa è successo non abbiamo più giocato ci siamo innervositi e non abbiamo saputo gestire la situazione grazie anche al nostro mister che continua a mettersi in mezzo al campo che non può controllare più la partita io mi sto dicendo questa cosa da un sacco di tempo che il mister non deve assolutamente giocare la società non questa cosa non la vuole prendere in condizionazione per tanti non lo so quello che dobbiamo fare io penso che se non si prende dei provvedimenti su questa cosa io sicuramente lascerò la Trilem a casa da tutto Gregorio Martino team manager della Trilem c'è grande amarezza in questa partita l'abbiamo riscontrato anche nelle parole dure di Peppe Sposio il quale senza perlissuto la lingua già altre volte ha detto che senza nulla togliere a Carlo Florio c'è bisogno di un allenatore che faccia l'allenatore fuori dal campo e lui quasi ha posto un out out con il discorso di mettere Carlo Florio fuori tra virgolette dal ruolo di allenatore per cercare una soluzione rispetto a quello che accade troppe volte spesso forse una time che vi dà tanta amarezza che ho visto anche il tuo volto corrucciato al termine della partita sì diciamo che in primis voglio dire che noi dobbiamo ringraziare Carlo che svolge il doppio ruolo proprio in virtù del fatto di come siamo rimaneggiati e come siamo arrivati a questo punto certo che è veramente una partita buttata via sul 4-1 credo che nessuno in questo sport e un campo così piccolo riesce a pareggiare però purtroppo noi ci riusciamo dobbiamo fare le nostre coppie sicuramente che ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità poi la società ovviamente è padrone di fare quello che vuole io credo che Carlo Florio vada solo ringraziato ripeto per il doppio lavoro che svolge poi a di là che la società non arrivano i risultati e vuole fare delle scelte penso che sia pure giusto che si faccia perché nel mondo del calcio a 5 nel mondo del pallone è sempre esistito che purtroppo quando i risultati non arrivano chi paga è sempre allenatore lui si assume tutte le responsabilità e sta a disposizione della società poi la società prenderà provvedimenti ovviamente Carlo Florio non vuole parlare l'abbiamo cercato di coinvolgerlo però è giusto rispettare la vostra opinione mercato, la Trinem arriva a vallone è possibile che possa andare via qualcuno che arrivi qualcun altro? sì ci sono dei provvedimenti che si prenderanno in settimana in virtù dell'apertura del mercato ci sono dei contatti con qualche giocatore però nulla di definito io devo fare il giornalista però consentimi quindi ti faccio la domanda diretta potrebbero rischiare De Luca che non abbia visto oggi in campo di essere tagliato c'è l'ipotesi che possa andare via anche Longobar? diciamo che loro hanno avuto già qualche dialogo con qualche esponente della società quindi può anche darsi una cosa del genere come non può darsi ma la definizione totale noi la diamo direttamente in settimana proprio in virtù del fatto delle aperture oggi non possiamo dire perfettamente niente per certo però sicuramente qualche dialogo già c'è stato arriverà qualcun altro se dovessero andare via? Ocon oltre ad avallone che abbiamo già citato avallone già è assodato che sta con noi sicuramente qualche altro ragazzo del tipo avallone verrà sicuramente come stiamo trattando qualche altro giocatore che purtroppo ti ripeto un'altra volta sveliamo tutto in settimana anche in virtù delle risposte e delle decisioni che noi prenderemo nei confronti di quelli che hai citato tu e che già hanno fatto qualche dialogo con qualche esponente della società Giuseppe Grande, portiere del Pomigliano una partita in rimonta dopo un primo tempo in cui a parte l'Eurogoal di avallone non sembravate nel match o poi una ripresa da protagonista Sì sì, è stata una partita innanzitutto è stato un punto importantissimo perché su questo campo sfido chiunque a venire a fare risultato per le dimensioni, per la caratura degli avversari però noi siamo entrati molto timorosi forse insomma abbiamo subito appunto ad impatto con il Casavatore, con la Tridem e quindi abbiamo fatto un primo tempo davvero sotto tono ci siamo stati insomma in difesa ma abbiamo preso comunque quattro gol nel secondo tempo siamo usciti fuori perché comunque non poteva andare peggio del primo quindi abbiamo messo in campo carattere soprattutto la forza del gruppo è uscita fuori la forza del gruppo Un pomigliano che ci sembra un buon momento di forma dopo l'inizio di stagione balbettante la vittoria con il Parete oggi è la conferma che forse soprattutto mentalmente questa squadra si è sbloccata Sì, in realtà noi abbiamo avuto un momento di debacle di quelle due o tre partite con Alma insomma Scafati e le altre però in realtà il gruppo c'era ci siamo solo ricombattati anzi a dire il vero abbiamo avuto qualche defiance vedi l'infortunio di Mocerino della scorsa settimana l'assenza forzata di Chierchi a Spezia quindi numericamente siamo anche ridotti ma comunque è uscito fuori ripeto il gruppo e la voglia di lottare perché abbiamo conquistato questa C1 sul campo e ci vogliamo difendere fino all'ultima giornata Oltre alla vecchia guardia bisogna sottolineare anche la prova di altri ragazzi che si stanno mettendo in luce questa forse è la nota più bella di questo avvio di stagione si vede ormai da delle distinte noi andiamo sempre in campo ma almeno 5-6 under gli under però non sono figurativi cioè fanno la differenza ci danno una grossa mano negli allenamenti ma soprattutto nel campo insomma in partite sabato e quindi questa è veramente una nota piacevole anche per il futuro soprattutto Nicola Mauriello Presidente del Pomigliano allora finalmente il volto di questa squadra sta uscendo fuori e anche soprattutto il carattere quello che vi chiesto al tuo gruppo Finalmente si sta vedendo qualcosa oggi abbiamo fatto una grande partita peccato che il campo di gioco in queste dimensioni piccole non fa parte del nostro gioco diciamo comunque nonostante tutti abbiamo disputato una bella gara contro un'ottima squadra e speriamo che questo ciclo che inizia da poco continui con la dar del tempo Ancora una squadra con un po' di timore reverenzale il primo tempo non siete stati in gara con la testa giusta ci avete messo un po' di tempo per carburare ma tieni presente che Mocerino è rientrato dopo tre settimane che non ha giocato Matteo sta tre settimane fuori qualcuno che abbiamo tre diffidati che quindi la paura quindi oggi ha preso abbiamo Cozzone che è stato morito quindi già il prossimo sabato salterà la partita quindi siamo in un periodo un po' ma nonostante tutto i ragazzi stanno mettendo tutto e stiamo cercando di portare punti a casa quando più ne possiamo Adesso ti metto in difficoltà il mercato si apre tra un paio di giorni che cosa succede? Si parla di alcuni giocatori che potrebbero andare via vedi Chierchia addirittura Mocerino è un pomigliano che si priverà di qualche giocatore che si rinforzerà? Guarda noi dall'inizio del campionato abbiamo sabrito determinati budget e quelli non andiamo oltre qui il mercato si è aperto però è inutile siamo qui a parlare non so se hai letto la lettera di Stefano e quindi quella lettera rispecchia in tutto perlomeno la nostra società la rispecchia in tutto e per tutto è inutile andare a chiedere a un giocatore e ti vuole un doppio stipendio quindi noi lo consideriamo un divertimento già è abbastanza che facciamo sacrifici per poter portare avanti diciamo questo gioco quindi secondo me il mercato del pomigliano non può essere aperto solo perché non ci troviamo con i parametri chi vuol venire sa quali sono le leggi che si rispettano a pomigliano chi vuole andare via è libero di farlo diciamo questa è la parola vostra però tenga di una cosa il pomigliano se dice uno uno è per tutta la durata del campionato pure io potrei fare delle promesse sì quando vuoi te le do di più il primo mese poi il secondo mese non so come andrà a finire quindi il pomigliano su questo perlomeno sono 10 anni 11 anni nessuno ha mai dovuto dire qualcosa sulla lealtà del pomigliano però noi purtroppo i sacrifici si sanno il momento è quello che è il budget bisogna rispettarlo non è l'unico fare promesse e non mantenerle quindi io penso che se deve entrare qualcuno bisogna uscire qualcuno perché non ci possiamo sossare più di tanto grazie a tutti